Beni per circa 12 milioni di euro sono stati confiscati dalla dia di Caltanissetta Paolo Farinella, l'imprenditore di Lady Gangia, ritenuto, scrivono gli inquirenti, interlocutore privilegiato di personaggi di spicco di Cosa Nostra. Tra i beni confiscati c'è anche un terreno incontrato a Mimiani a Caltanissetta di circa 300 ettari con annessa azienda agraria che secondo l'accusa sarebbe stato utilizzato come riserva di caccia da molti boss come Bernardo Provenzano e Giovanni Brusca.